Questo signore che viene da Livorno con il sorriso smagliante si chiama Nino Pellegrini. Subito dopo l'esibizione di Federico Ferrandina, solo in questo caso si chiama Pino Pellegrini, però all'anagrafe è registrato come Nino Pellegrini. Mentre colui che doveva farci uno striptease, e poi non ce l'ha fatto, è... Oddio... Peppe Russo! Grazie! 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 Poi vengo per la mia! Cianco e Ciancina! Nino Pellegrini! Peppe Russo! Vuoi chiamare a salvare il pubblico sul parco! Giuseppe Poi! Nicolo Genovese! Raffaele Amisiti